Ben che siano sorti alcuni intoppi, continua senza sosta il restyling della stazione ferroviaria di Bergamo. D'altra parte i responsabili dei lavori assicurano che il timing è perfettamente in regola e la fine dei lavori rientrerà nei termini previsti, cioè l'estate del 2014. Intanto però è già saltata una scadenza. Il trasferimento della biglietteria nella palazione a sinistra della stazione era infatti prevista entro febbraio. Malgrado siano state demolite le aree che ospiteranno gli uffici della RFI e della futura biglietteria e siano stati creati dei locali utili a proteggere le attività commerciali che andranno trasferite, è difficile pensare che il trasloco del cuore pulsante del complesso ferroviario avvenga entro un mese. La problematica risiede poi nel sottotetto, poiché le tubature sono fatte da mianto che per essere smantellato ha bisogno di accorgimenti particolari che tutelino la sicurezza dei lavoratori. Ora si attendono quindi i permessi dall'ASL. L'edificio storico, pur mantenendo l'aspetto ottocentesco, cambierà completamente assetto mediante la riorganizzazione dello spazio interno e dell'ingresso. Sul fronte dell'accessibilità, invece, tre sono gli ascensori del sottopasso, i quali verranno collaudati a novembre. All'esterno, invece, nel piazzale vero e proprio, la situazione rimane abbastanza statica, con mucchi di sabbia e ponteggi ancora installati. Gli operai, inoltre, sembrano diminuiti drasticamente e la frenesia lavorativa non è esattamente la caratteristica peculiare del cantiere.